Una distesa di tetti e pareti di lamiera riempie lo spazio lasciato dai quartieri residenziali di Nairobi. È lo slam di Kangemi, abitato da centomila keniani, che Papa Francesco visita di primo mattino, prima di lasciare il Kenya. Attraversate le stradine in terra battuta e fango della baraccopoli, raggiunge la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore. Qui si rivolge alla comunità e, pur denunciando la terribile ingiustizia dell'emerginazione urbana, riconosce anche la saggezza e i valori della cultura dei quartieri popolari, per la quale ogni essere umano è più importante del dio denaro. Ma acqua potabile, bagno, energia sicura, strade, scuole, ospedali, con spazi ricreativi, vanno garantiti ad ogni famiglia. E Papa Francesco denuncia che molte famiglie pagano affitti abusivi per alloggi in condizioni per niente adeguate. Così, nel degrado dei quartieri popolari, le organizzazioni criminali utilizzano i bambini e i giovani come carne da cannone per i loro affari insanguinati. Per questo il Pontefice chiede che le autorità prendano insieme agli abitanti degli slums la strada dell'inclusione sociale, di una rispettosa integrazione urbana e della progettazione di nuove urbanizzazioni di qualità per ospitare le generazioni future. Tutti i cristiani, conclude il Papa, in particolare i vescovi, devono prendere l'iniziativa contro tante ingiustizie, coinvolgersi nei problemi dei cittadini e accompagnarli nelle loro lotte, perché i servizi essenziali arrivino a tutti e tutti possiate godere della pace e della sicurezza che meritate, secondo la vostra infinita dignità umana.